Allora, per fare la missione Ascensione di Sena, quanto pare dobbiamo parlare di rimbrotti di Gondor, credo sia nella città, avevo evitato nella città una discussione, dove ero, tipo qui, vicino alla mensa Dovebbe essere questa informazione qui Potresti riferire di nuovo gli ordini e i numeri ultimi in castello? No, nemmeno per sogno, l'ultima volta ci ha voluto una vita per farli approvare da Gondor Rimbrotti di Gondor Andiamo a parlarne Che seccatura! Che succede? Qualcosa non va? Ma non vedo perché non dirvelo! C'è stata una trattativa su chi tra i numeri ultimi deve rimanere distanza al castello Una trattativa con la città, dici? Già, hanno deciso che deve rimanere qualcuno che va d'accordo con gli Agnus Se quel qualcuno esistesse non ci troveremmo in questa situazione, dico io Giustamente Sembra un po' nervosa E sentite il bello Deve trattarsi di una sola unità Pazzesco, no? La gran cagna ha colpito ancora Dai, calmati ora Ehi, ho trovato Perché non ci aiutate voi? Tanto non avete niente di meglio da fare, no? Salvare il mondo? Ma vabbè Ti pregherei di ripensare quello che hai appena detto Eh? Monica ci sta chiamando Oh, forse le fischiavano le orecchie O forse non ci stava mica ascoltando quella gran cagna, no? Monica? Che c'è? Ehi, scusate il disturbo Mi è successo qualcosa e ci servirebbe il vostro aiuto È piuttosto urgente Ci servivano alcune cose dal deposito di materiali Ma c'è stato un problema Il deposito dei materiali? Quello in mani conservatori? Proprio quello, esatto Garrett sostiene di non avere ancora avuto tempo Di andare là a recuperare il tutto Da quando la città si è spostata Ma non sopporto l'idea di lasciare là le nostre scorte Dopotutto si tratta di prodotti preziosi Ho pensato di mandare un blindo Ma ci sono troppi mostri in giro Mi domandavo se per caso potresti liberarci di quei mostri Ricevuto Ve ne sono grata Non si fa certo problemi a dare ordini Andiamo Prima finiamo Meglio è Vieni anche tu, Gondor Ce la facciamo anche da soli? Ho bisogno di sfogare la mia rabbia Vi toccherà portarmi con voi Occhio dove tiri i tuoi colpi Capito? Ok Sei una storia secondaria Non mi si è attivata Un attimo Bisogna avere Gondor in gruppo Ok Pian di spada Qua Oh c'è il teletransport Bene Dobbiamo eliminarli tutti Chi? Cosa? Eee Facile Bel lavoro Forse è un po' sempliciotto Però Andrà bene Dovrebbe essere abbastanza Per stare sicuro Noah Puoi riferire la città Ok Ok Per stare sicuro Per stare sicuro Per stare sicuro Per stare sicuro Per Евogy Perdenómio Era morta questa sono confusa scusate che cazzo è che succede mamma ce l'ho fatta sono una candidata di che grado eh grado in che posizione sei non te l'hanno detto io mi sono classificata all'ottavo posto una riserva quindi ma c'erano 100 candidati nella terza prova solo sei di noi diventeranno ruboros se non fai parte di quei sei puoi anche essere l'ultima siamo uno dei sei casati è in gioco l'onore della famiglia ride è un po strunza sua madre però è e lavando la ragazza vanda mondo è arrivato prima malediti porvi un'altra volta mi fatto a perdere contro quelle nullità ogni generazione fino alla buonanima di tuo padre ha sempre prodotto soldati di prima categoria se ci fosse ancora titania gran bell'eredità mi hanno lasciato sei stronza è che madri sei mi hanno lasciato un po' di più Era stata lei a dipingere? Era brava a dipingere? O era qualcun altro? Magari suo padre? Mi congratulo con te. A partire da oggi, sei una Mobius a tutti gli effetti. Sono... Una Mobius? Puoi giocare con i tuoi poteri quanto ti pare? Il divertimento inizia ora. Puoi ricominciare da zero? Dimentica quello che eri. Così ora posso fare tutto quello che voglio? Vuoi diventare qualcuno, non è così? Non una semplice paesanotta. Qualcuno per davvero? Ma non hai un po' di originalità? Puoi davvero diventarlo? Devi solo distruggere l'impostore. L'impostore. Coraggio. Mostrami chi sei veramente. Io so chi è l'impostore. Che due maroni. Sta roba non mi piace. Perché... Lei poteva vivere finché diventava vecchia. Poteva morire di vecchiaia. Ma lei non è andato bene. No. E si è fatta diventare come gli altri con dieci anni di vita. Perché voleva avere altre possibilità. Voleva morire e poter rinascere per avere un'altra possibilità nella vita. Si uccide. Così ha un'altra possibilità nella vita. E adesso che cazzo fa? Mobius. Così non ha più altre possibilità. Che stronzata è? Ecco il nostro trasporto. È ritardo mostruoso. Devo arrivare in metà del tempo. Andiamo a incontrarli. Oh, that's a rare one. Andiamo a incontrarli. Alla prossima. Ciao. ma è dentro la città come fa essere dentro la città smetti di farmi il verso non sei nemmeno capace cos'è l'arma di tua sorella è troppo pesante per te non ti serve lasciala perdere hai altri talenti allora le lo diceva le lo diceva in maniera cattivella molto seria cioè molto però aveva ragione non serve che copia qualcun altro ha dei talenti suoi sviluppa quelli ho provato a buttarla via se solo avessi potuto farlo tanto tempo fa ma è vero? che c'è che non va in mobius ma com'è possibile che cos'è successo? una mobius ha attaccato la città mobius? tu serio? si tratta di shania sta stronza maledetta uccidiamola per sempre ma com'è possibile? l'abbiamo vista morire appunto beh è già ci è successo con gli oran sprazzo così si è unita loro shania shania lo sapevo era solo questione di tempo eppure io non shania vuoi andare in fondo alla faccenda? non è così? oh mimi non siamo noi siamo con te ok? dai andiamo lo farò lo giuro metterò le cose a posto lo giuro sulla mia vita ci riuscirò lascia perdere il carico portaci in città si signora gondor portaci con te ne sei sicura se no? è una mobius non è così? allora dobbiamo venire con te si tratta di shania pensi di farcela anche un nostro amico è diventato un mobius ma dobbiamo farcene una ragione non lo sapevo è dura da mandare giù eh? parla per te cuori di pietra puoi ancora cambiare idea ultima chiamata no va bene ce la farò è deciso allora alzate le chiappe e mettiamoci al lavoro che bello che in realtà in inglese ci sta prendendo ad insulti l'italiano non rende tanto quanto l'inglese che bebe dove vediamo vediamo madonna mia spero che tu ti vergogni signora se così psicopatica è anche colpa tua non lo sapevo ha avuto un passato burrascoso quella tipa sembra la ricerca di un modo per far felice sua madre anzi no sembra cercare di essere all'altezza delle sue aspettative a volte la vita ti serve proprio delle carte schifose ma eravamo tutti disperati se sapessi per cosa sono passata io non voglio fare gara a chi ha avuto più sfighe però tu sei così forte molto più di me la forza non c'entra niente è tutta questione di mentalità eh non vorrei dirtelo ma anche quella è forza sono nata con un dono illuso tutto lì e se fossi nata senza quel dono capisci ora qual è il problema novità? no signora tutto taccio da mezz'ora allora siamo stati travolti non credete sia strano? eh? voglio dire abbiamo percorso già molta strada ma non c'è nulla si si hanno già rovesciato la città perché non abbiamo incontrato resistenza no questo è quel che vuole sta aspettando pronta a dircene di tutti i colori ci scommetto sono sotto l'influenza dei Mobius la madre è un po' spaventata da te è un po' spaventata da te è un po' spaventata da te silenzioso la città statuine statuine garret sono tutti fermi? sono tutti fermi? Mia ma è temo di sì anche se non avevo mai visto prima questo potere credi sia opera di Shnaya? sai dove dobbiamo andare? aspetta che il mio detector qui lo lo mi dirà là giù è ancora calda ehi ragazzi sono ancora vivi sono ancora vivi? sei sicura? non sa che ha ragione già sembrano proprio vivi vedo che respirano anche se molto debolmente forse siamo ancora in tempo dobbiamo fare presto vedere la città ridotta così mi spezza il cuore ma se sconfiggiamo la Mobius le cose torneranno alla normalità no? non c'è modo di evitare combattimenti che non c'ho cazzi? tipo speravo di potermi teletrasportare e niente che devo dire è da questa parte è presto dobbiamo combattere contro Monica o no? mamma anche lei eh almeno dobbiamo combattere con lei che te ne pare Gondor? non ti sembrano per tarte? sei stata tu? dimmelo essere una Mobius è incredibile che cosa? ora ho il controllo guarda posso mobilizzare tutto quello che voglio mani oggetti proprio come in un quadro ma sì? è per questo che hai bloccato tutti? ho il potere di fermare persino l'aria cosa pensate che succederebbe se lo facessi? non ci provare che vista affascinante eh Gondor vorrei quasi immortalarla perché spazzo stai facendo così? qual è il tuo obiettivo? davvero me lo chiedi? sei benissimo qual è Gondor? voglio fare tutto a pezzi la città e anche voi così potrò ridipingere tutto con il mio colore preferito un bel rosso intenso sì un bel rosso sangue sì continuate pure a guardarmi storto maledite la vostra impotenza anche loro non riescono a muoversi dai 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 che ce la fai no non riuscirai a batterci siamo stati in situazioni molto peggiori devi liberare questa gente Shania proprio come avete fatto al castello eh voi un robot siete veramente degli insetti fastidiosi eppure per quanto hai voluto diventare una di noi chi ne è stato del tuo sogno? va a quel paese voglio spazzare via tutto radere tutto al fuolo le vostre vite il vostro mondo se lo odi così tanto se davvero odi questo mondo perché non lo distruggi tu stessa? puoi farlo con le tue mani te l'ho detto voglio radere la puoi cambiarle in un altro modo sei ancora in tempo così il mondo che conosci si dissolverà naturalmente cambierà tutto fai presto a parlare Senna tu sei cresciuta nella bambagia scendi dal tuo piedistallo non è capito niente sto solo dicendo che io non sono come te non ci somigliamo in nulla è vero per questo si è diventata una Mobius beh spiacente ma non ha funzionato come? non è dell'altezza della famiglia Vandam vero? è così noi siamo vado via non c'è la paragone con il casato Raid allora lo ammetti se vuoi vederla così fai pure ti farò vedere in cosa siamo diversi a partire dai miei pugni o forse te la fai sotto? perdi questa battaglia e non avrai più nessun posto da chiamare casa sei un po' incazzata però che bello che chi è da Mobius ha comunque tipo le trecce le core di cavallo oh cielo ma qui non posso fare niente mentre mi picchia fatta secca non posso perdere se fallisco nel mondo non ci sarà più posto per me ma chi cazzo l'ha detto? possibile che ancora non ci arrivi? ma come ho fatto? sono una Mobius ce l'ho fatta sono davvero una Mobius non te l'avevo detto? non era questa la tua vera vocazione? e dipingeva lei? e disegnava? oh non sapevo che fossi brava a dipingere no no non è niente dai voglio vederne altri questo è tuo padre no? ah e questo è il mio vecchio eh? è proprio uguale a lui ci sei fare eh? ma perché proprio loro? perché un giorno voglio essere come loro voglio proteggere la città voglio l'ammirazione di tutti e questo è il tuo sogno? io non mi preoccuperei più di tanto eh? sono solo dei vecchi bacucchi tu cerca di essere te stessa nessuno di quei vecchi scorreggioni potrebbe creare opere d'arte così questa è la tua vera vocazione e quindi avevano avuto anche dei bei momenti insieme proprio come con Joran adesso me lo dici? nessuno nemmeno una volta si è mai aspettato questo da me mi sei sicura? perché io mi ricordo di qualcuno qualcuno che ti voleva Shania quella è l'arma di Titania? sì ora che non sei più mi arrangio come posso Shania mettila via metti via quell'arma ok non preferiresti qualcosa del genere? ma papà vuole che la sua bambina faccia quello che le piace di più oh papà dai provalo ti fa schifo vero? in tuo nome perché 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 non lo cambi? come se si potesse per quanto lo odi in qualche modo mi fa sentire sempre a casa è speciale perché è il nome che mi ha dato lei un po' come il tuo talento mi piace mi piace mi piace mi piace è Shania costruiremo quel mondo noi stessi lo faremo diventare realtà oh piandala stai solo perdendo tempo questa è la botana della madre per quanto tempo ancora gettere di fango su nome della nostra famiglia è morta da mobius insomma patetica dillo di nuovo monica un bel cazzo tu te lo meriti prendila cazzotti ti prego godarda sono brava a parlare io credevo che i genitori dovessero avere più affetto per i propri figli un calore che pensavamo sarebbe durato per tutta la vita pensavo che sarebbe stata quella la risposta che cercavamo era tutta un'illusione lasciamo dei nostri genitori certo ma poi finisci lì ma allora anche tutti i nostri obiettivi sono delle illusioni è solo una grande menzogna dipende solo da te prima o poi tutti finiamo nel fango dobbiamo credere però di poterne venire fuori con un sorriso mamma comunque è pronto a tavola cosa facciamoci una bella mangiata quando ha avuto tempo di cucinare questa donna il sonno è bello mi piace credi che Shania si è riuscita a sorridere la prossima volta ce la farà ma è morta da Mobius non ci sarà una prossima volta per lei oh bene orco fino a livello 20 è è Grazie a tutti